Moonwatchers Film Festival, festival internazionale del cortometraggio di state, siamo con la dottoressa Deborah Artuso, assessore del Comune di State alla cultura. Cinema vuol dire di antiecultura, una iniziativa che diventa particolarmente attrattiva, un'idea nata dai giovani che ha anche una dimensione importante perché nella seconda giornata si concentra a livello locale sui territori. Un'iniziativa che l'amministrazione comunale ha voluto subito sposare perché effettivamente come dicevi il cinema è cultura, è promozione del territorio, è promozione della bellezza e assente poi abbiamo dei talenti che si sono cimentati nell'ambito cinematografico e quindi ci sembrava giusto inserire nella nostra ricambina estiva un'iniziativa che arrivasse anche agli amanti del cinema. Il cinema tra le arti è quello che forse meno viene proiettato nelle stagioni estive, si pensa più a qualcosa di più immediato come la musica, il divertimento un pochettino più, che arriva più sulla pelle. Invece questa è una forma di arte che invita una riflessione e quindi va promozionata e l'amministrazione di Stato lo fa con enorme piacere e anche con onore perché in effetti questa associazione è riuscita a portare sul territorio di Stato esperienze internazionali che altro non possono fare che qualificare il nostro territorio.